ed eccoci qua carissimi amici diretta guardate qua il marvin cosa fa spostare la domenica qua le zone qua qua di la val di non guardate qua carissimi amici ha fatto spostare questo 190 36 e niente guardate qua cari amici insomma abbiamo qua due turbo star spettacolari guardate guardate spettacolo 190 48 favoloso ed eccoci qua cari amici insomma qua la nostra auto qua di renato bravo accendi il motore ed eccoci qua bello bello bravissimo fammi sentire il rombo bello rombo la gente piace il rombo guardate qua cari amici c'è la diretta pazzesca è 190 42 c'è un bel rombo 48 grazie grazie spettacolo 190 48 42 qua grazie grazie anche quello me lo fai sentire ed eccoci qua cari amici diretta pazzesca insomma me ne sono inventata una qua guardate qua anche questo 190 48 cari amici appassionati di camion vita questi sono il turbo star guardate qua guardate qua cari amici vai 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 Questi sono camion, non le plastiche di oggi, guardate qua cari amici, spettacolo, questi sono camion ancora, non le plastiche strali, spettacolo, guardate qua cari amici, Jonathan guarda qua che diretta, eh, eh, guarda Jonathan, eh, Marvin cosa fa, guarda, guarda qua, guardate qua, tu ti chiami? Eric, bravo Eric, cari amici, spettacolo, bravo Eric, profumo di nafta, bravissimi, grazie, 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 questi sono camion, cari amici, appassionati di camion Vita, oh, mi raccomando, eh, Turbo Star, di che, sempre tenerli o no, cioè, fatti, bravissimi, saluto qua, abbiamo fatto adesso un raduno di autostoriche qua a Crespo, e saluto di camion destra di Giorgio Rezzi, ecco, allora, eccoci qua, insomma, abbiamo detto, vediamo se ci sono ancora i Turbo Star, ci sono ancora, ed eccoci qua, cari amici, grazie, eh, spettacolo, grazie, ciao a tutti, insomma, 190-48, la diretta l'abbiamo fatta, insomma, Turbo Star, ragazzi, eh, bravo, bravo Eric, sposti il camion adesso, spegni, bravo, insomma, avete visto, insomma, la passione c'è anche i giorni ragazzi, spettacolo, ed eccoci qua, Turbo Star, fantastico, ciao a tutti, amici, siete, insomma, siete bravi che mi seguite, insomma, nelle mie pazzie, ciao a tutti, 30 anni, eh, 30 anni, guardate qua, cari amici, insomma, 30 anni, spettacolo, guardate qua, i dettagli, cabine, tenuto bene, spettacolo, guardate qua, 86, guardate qua, insomma, niente, dall'altra, quello della cabina, eccoci qua, insomma, la cabina, qua, ed eccoci qua, cari amici, siamo qua sulla cabina, appassionati di camion vintage, attenzione, che il Marvin qua si arrampica, guardate qua, insomma, 190, 48, ancora un piccolo salotto, dotato di brandina, per voi che mi dite sempre, fateci vedere il quadro, il comando, eccolo qua, 190, 48, fantastico, insomma, il Marvin pensava di andare a casa, e niente, se ne è inventata un'altra, insomma, va bene così, grazie di tutto, guardate, insomma, ciao a tutti, eccolo qua, vieni, bravo, eccoci qua, insomma, qua, dai, per concludere, insomma, un po' di camion vecchi, dai, un camion magari poco considerato, ma va bene, bravo, dai, voi, bravo, dai, voi, vai vedere che vai, ecco qua, guardate qua, il ragazzino qua, guardate qua, la giovanità, il spettacolo, guardate qua, 109, 14, bravo, bravo, come ti chiami? Daniele, vai Daniele, guardate, insomma, ed eccoci qua, cari amici, vediamo, 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 ok, finiamo, vediamo dopo,